Troppo buone le polpette di zucchine e carote! Prepariamole insieme, sono facilissime! Per prima cosa inizia a grattare sia le carote che le zucchine. Mettile in una ciotola e aggiungi sale, pepe, uova, formaggio grattugiato, pan grattato e poi inizia a mescolare il tutto con le mani. Forma delle polpettine, adagiali su un piatto e poi inizia a cuocerle in padella oppure in forno caldo fino a farle dorare. Ed eccole qui, buonissime! Buon appetito amici! Ciao!